Leonardo Nunzella, l'anno scorso presenze centellinate, due volte in campo, due volte però con una risultanza finale ottima, il migliore in campo. Quest'anno? Quest'anno speriamo di avere un po' più di spazio, quando ci sarà la possibilità cerchiamo di far bene, poi il campo valla. Nunzella solo ed esclusivamente terzino-sinistro oppure ce lo possiamo immaginare anche come esterno alto di centrocampo? È indifferente, ma se il mister mi chiede qualcosa io sono a disposizione per la squadra, per lui e per me. Questo primo mese qui di allenamenti con il Lanciano come ti sei trovato? Benissimo, anche perché conoscevo quasi tutti, quindi pure l'accoglienza è stata diversa, è un'atmosfera bella. No, no, sicuramente è cambiato, si fa rispettare per il ruolo che ha e è giusto che sia così. No, 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 sono cambiati, comunque Roberto è sempre stato uno che... Anche in campo? Sì, ma io sono stato poco tempo, l'ho conosciuto poco, ma per quel poco che ho conosciuto è uno che tiene tanto a queste cose. È cambiato nei modi, ma anche prima ti aiutava tanto. Leonardo, questo campionato di Serie B come te lo aspetti? Bello e avvincente, tante squadre si stanno rinforzando e mi piace, sarà una bella sfida. Chi metti come pretendenti alla salvezza, perché parliamo sempre di salvezza come obiettivo del Lanciano, quindi a chi fare particolarmente attenzione? A tutte, non puoi prendere sotto gamma una partita perché magari giochi con una squadra che è più forte, perché poi puoi sbagliare quella con la quale pensi che sia più semplice. Hai un maestro, ormai un veterano in quel ruolo, che è Carlo Mammarella, l'anno scorso l'hai ammesso pubblicamente che stavi imparando molto da lui. Dopo un anno, a gennaio farai un anno qui a Lanciano, che cosa ti ha dato Carlo Mammarella dal punto di vista umano, ma soprattutto tecnico e tattico? Hai detto una cosa giusta, al punto di vista umano mi ha dato tanto, tanti consigli, anche se può sembrare contraddittori perché andrebbe contro i suoi interessi, però mi ha aiutato tanto, mi ha dato tanti consigli, anche nel campo stesso, pure quando provi la tattica, se sbagli qualcosa ti aiuta.